La Giunta Comunale di Caltanissetta ha deliberato la concessione di un contributo di 10.000 euro all'Associazione Sportiva di Lettantistica Scuderia Caltanissetta Corse per la sedicesima edizione del Rally Città di Caltanissetta. La gara automobilistica è in programma dal 23 al 24 giugno e inserita nel calendario nazionale AC Sport, valida come prova del trofeo Rally Coppa Italia e campionato siciliano Rally, evento che rappresenta un'importante occasione non solo per la valorizzazione del territorio, anche e soprattutto per la promozione dello sport, si legge nella proposta di deliberazione. Considerati inoltre i rilevanti riflessi turistici della manifestazione che segue quella dell'importante Targa Florio e di conseguenza garantisce la presenza di importanti equipaggi di oltre stretto.